Lo scorso 1 novembre I carabinieri della liquota radiomobile di Latina, nel corso di un servizio di controllo del territorio su segnalazione pervenuta alla locale centrale operativa, intervenivano deferendo stato libertà un 42enne del luogo per il reato di spendita di monete false. L'uomo, poco prima, all'interno di una pizzeria effettuava il pagamento con una banconota falsa da 50 euro. La stessa veniva sottoposta a sequestro. La stessa veniva sottoposta a sequestro. La stessa veniva sottoposta a sequestro. Il grave stato del tetto che presenta aperture interne, tegole sconnesse e cornicioni pericolanti. Da qui la decisione dell'ente, tramite un'ordinanza che obbliga a rimuovere urgentemente e comunque non oltre 7 giorni dalla notifica dell'atto la grave situazione di pericolo sul tetto dell'immobile. Si terrà oggi alle 17.30 presso la libreria Feltrinelli di Latina in via Diaz. La presentazione del saggio Un'altra Europa è possibile, scritto da Maurizio Cotta per le edizioni Il Mulino. Una riflessione a tutto tondo sul senso dell'Europa a partire dal libro del politologo dell'Università di Siena. Una possibile ricetta per salvare l'Unione, i suoi valori, i suoi principi. L'evento è promosso da Icre Lazio e oltre all'autore saranno presenti Gian Paolo Manzella, il professor Alessandro Orsini, il presidente di un'industria latina Giorgio Klingere e il consigliere regionale Enrico Forte. Modera l'incontro la giornalista Graziella Di Mambro di Latina Oggi. E' stato presentato il capitolato per la progettazione e l'installazione dell'area gioco e socialità del Parco Nazionale del Circeo. L'obiettivo dell'ente è di rinnovare e riqualificare l'area gioco già presente, e attualmente dismessa, presso il centro visitatori in via Carlo Alberto 188 a Sabaudia, dove sono presenti altre strutture di accoglienza. L'area che si intende allestire ha un perimetro di circa 200 metri e una superficie di circa 1860 metri quadrati. Tutte le strutture dovranno essere integrate al contesto del Parco Nazionale e al suo paesaggio, nonché alle sue finalità attraverso la scelta dei materiali, quali ad esempio legno o materiali riciclati. L'area gioco e socialità dovrà essere inclusiva e di facile accesso alle diverse abilità, eliminando le barriere all'accessibilità e le limitazioni all'uso delle strutture gioco, uno spazio dove i bambini, gli anziani, e persone con disabilità fisiche o sensoriali o con problemi di movimento possono accedere, giocare e divertirsi in sicurezza, insieme a tutti gli altri. Le attrezzature, quindi, devono poter essere utilizzate da una vasta gamma di utenti aventi diverse abilità e prevedere attrezzature anche per utenti su sedia a rotelle. L'area dovrà inoltre avere una zona terza età, fornita di attrezzi e supporti appositamente studiati per l'attività fisica degli anziani che desiderano mantenersi in forma con semplici esercizi. Conclusa la settima edizione del premio Comeo, ci si appresta a inaugurare un nuovo importante evento allo spazio di arte contemporanea, una retrospettiva dedicata a Claudio Cintoli, artista scomparso prematuramente, a poco più di 40 anni, nel 1978, che ha lasciato un segno profondo nel mondo dell'arte e nella memoria di artisti e giovani di Latina. L'esposizione accompagna l'uscita editoriale del libro Catalogo dello Storico dell'arte e critico romano Simone Bacchiato in cui l'autore ripercorre, grazie ad un'attenta ricerca documentaria, gli otto anni trascorsi dall'artista Claudio Cintoli in veste di docente di figura disegnata presso il Liceo Artistico di Latina, istituzione nata nel 1968. La mostra evento avviene non a caso nell'anno 2018 in cui ricorrono i 50 anni dalla sua nascita e i 40 anni dalla morte dell'artista. La mostra espone opere realizzate da Cintoli in questo arco cronologico, alcune facenti parte della serie dei pesi morti e di nido e altri voli e altre mai esposti in precedenza. Trasferta Amara per la Giovo Lei Aprilia. Dopo otto vittorie, il sestetto di Nino Gagliardi cade per la prima volta in questo inizio di stagione al cospetto del Santa Teresa di Riva che si impone con un secco 3-0. Gara decisa da una supremazia delle siciliane al servizio e da diversi errori in attacco della formazione pontina nei momenti decisivi dei parziali, specialmente nel secondo e nel terzo set, dove Sestini e compagni hanno giocato alla pari prima di subire il servizio avversario nelle battute conclusive. A fine gara Nino Gagliardi ha evidenziato i meriti delle avversarie, complimenti a Santa Teresa per la prova offerta in questa gara. Chiaramente, possiamo affermare senza problemi che noi non abbiamo giocato come in altre occasioni. Ci può stare, siamo solo all'inizio della stagione ed abbiamo molto su cui lavorare e migliorare. Dopo otto gare vinte, abbiamo accusato questo stop che non cambia il nostro approccio al lavoro settimanale. Non eravamo fenomeni prima e una sconfitta ci può stare. Dopo aver giocato giovedì in Coppa Lazio per ben 5 set, abbiamo affrontato questa lunga trasferta in Sicilia e qualcosa probabilmente abbiamo pagato. Loro hanno dimostrato di essere più in palla di noi in questo momento e sono riuscite ad essere più incisive quando la gara loro richiedeva. . 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